Sono davvero felicissimo di trovarmi qui oggi per aver allungato ancora il mio contratto con questa società gloriosa. Sono davvero molto felice e consapevole che sarà una storia bellissima che durerà ancora qualche anno. Esordio con la prima squadra è stata un'esperienza fantastica, un ricordo che ho nella mia mente che sicuramente non se ne andrà mai. Sono felicissimo di aver vissuto quelle emozioni, è stato l'inizio di un percorso che ancora oggi mi rende orgoglioso e spero che possa essere il più lungo e eroso possibile. Il mister Pioli è stato fondamentale all'interno della mia crescita, il rinnovo di contratto è sicuramente anche merito suo per l'affiducia che mi ha dato quando ancora non avevo fatto nessuna partita in Serie A, quindi lo ringrazio molto e spero davvero che ci possano essere altri momenti molto importanti per me all'interno del campo e con il mister in panchina. È stato un momento molto doloroso nella mia seppur giovane carriera, avevo trovato una continuità che mi rendeva comunque all'interno del gruppo importante, che mi rendeva felice perché stavo facendo molte partite, ma grazie ai miei compagni che anche in quel momento sono stati sempre a mio fianco, grazie al lavoro quotidiano, grazie allo staff che a Milanello ci aiuta giorno per giorno per eliminare ogni eventuale problema. Sono riuscito a ritrovare fiducia in me stesso, fiducia nel mio fisico e fortunatamente ad essere qui oggi. Il nostro obiettivo anche per noi ragazzi che magari ci troviamo ad alternare delle partite dove siamo titolari a partite dove partiamo dalla panchina è quello sempre di farsi trovare pronti, il mister ci chiede questo, noi ci alleniamo al meglio appunto per essere pronti nel momento del bisogno della squadra, quindi sono molto felice che in questo caso sono riuscito ad aiutare i miei compagni. Penso che nel futuro dobbiamo migliorare tutti come squadra, dobbiamo porci sempre l'obiettivo di essere migliori del giorno precedente e così farò anche con me stesso, ho molto da migliorare sia a livello tecnico, sia a livello di personalità, sia a livello umano, quindi penso che possa solo migliorare e diventare una persona e un giocatore migliore. Simon è stato molto importante perché fa il mio stesso ruolo come lui anche Alessio e Romagnoli sono due figure che per me sono sempre state molto importanti perché sia nelle partite positive sia nelle partite meno positive hanno sempre avuto una parola di conforto, una parola di aiuto, un consiglio che mi ha aiutato a crescere a livello professionale, quindi li ringrazierò sempre per questo. Sicuramente un'emozione fantastica quello di far parte di questa società, quello di avere come direttore Maldini è un qualcosa che mi rende orgoglioso, anche solo avere rapporto con lui, fino a qualche anno fa lo vivevo come un sogno quello di incontrarlo e oggi vederlo e viverlo all'interno della mia quotidianità è un qualcosa di fantastico. Speriamo che possa essere di buon auspicio per qualche trofeo che possa arrivare magari già da questa stagione, intanto volevo cogliere l'occasione per ringraziare oltre appunto al direttore Paolo Maldini, anche Massara e Gazzidis che sono sempre stati al nostro fianco, quindi vorrei ringraziare a 360 gradi la società per la fiducia.